ecco c'è la fase 2 adesso ti faccio sentire come suona apriamo la benzina la leva dell'aria ecco qua pedivella speriamo che non mi faccia far figuracce prima pedalata a vuoto sconda voglio la pedalata eccolo qua giura anche che si tenete bene miscela leggermente grassa perché il motore è nuovo è necessario che resti un pochino più grasso di olio per evitare griffaggi magari comunque notare il sound il minimo l'orologio svizzero il suono muore strano cavolo vedi che bel rumore un po' di gas calma perché è preso lo avevo fatto notare gas mavura duo 314 una chicca spettacolare un omaggio personale per averci fatto perdere un po' di tempo il rotore c'è nuovo il rotone ecco fatto mi sembra non male un'ultimo giro intorno notare anche i dettagli persino le vitine più nascoste sono tropicalizzate ecco qua spero che sia stata una dimostrazione esauriente la prossima volta che la vedrai ce l'avrai a casa ciao